Consigliere Nanteri, lei conosceva già il precedente progetto dell'ex ferriere, la cosiddetta porta del mare, adesso si parla di una riduzione di volumetrie eppure lei ha parlato di scatoloni di cemento, allora che c'è che non va, cosa non funziona? Il vecchio progetto era un progetto oggi certamente irrealizzabile, ma un bel progetto sul profilo architettonico con tante funzioni interessanti per la città d'Imperia che sarebbe diventata un'attrattiva, avrebbe portato gente, avrebbe portato interesse, avrebbe portato lavoro. Quello che ci propongono oggi è una mera speculazione edilizia con degli scatoloni di cemento bruttissimi, con le auto sopra per non spendere neanche i soldi per le autoremesse interrate, con dei centri commerciali, con dei supermercati che vanno soltanto ad indebolire, ad impoverire il territorio cittadino. L'abbiamo definita una delle peggiori speculazioni edilizie, oggi non ci sono più le speculazioni edilizie delle seconde case e dei bilocali, ci sono quelle dei supermercati e l'hanno praticata. Ancora bene che ce ne siamo accorti, abbiamo chiesto la convocazione del Consiglio Comunale e il dibattito che si sta prendendo in città sembra proprio darci ragione. Allora voi che cosa vorreste, visto che nel senso dice che non è più realizzabile, anche se è bello, il vecchio progetto? Io non ho mai fatto demagogia, quindi mi rendo conto quando una cosa non sta in piedi e lo dico. Potrei dire che è bellissimo, l'amministrazione ha portato l'avanti, cercate di fare in modo che l'Agnesi trovi delle soluzioni e dei compratori. Io dico se non si può più fare quello, bisogna fare la stessa cosa che si era fatta all'epoca, un progetto bello, condiviso, con tante funzioni importanti, che sta in piedi. Quindi si potrà variare leggermente l'altro in modo tale da trovare delle sinergie tra funzioni e farlo stare in piedi. Nel vecchio progetto c'era un albergo con 80 camere, un albergo bellissimo, di qualità. Io dico che non bisogna abbandonare la proposta del turistico ricettivo. È vero che siamo vicino al depuratore, ma siamo sul parco urbano, tra Oniglio e Porto, l'unico spazio libero che rimane affacciato sul mare. Ci sono delle altre funzioni importantissime. C'erano due sale cinematografiche, io ritengo, visto che in altre città d'Italia le stanno realizzando, le stanno facendo, che si debba provare a fare un tentativo per una multisalla cinematografica. Ho fatto due esempi, ma sono cose che portano attrattiva, portano interesse a Imperia. Mentre in un supermercato ce ne sono già tanti, Imperia, 42 mila abitanti, l'altra sera in Consiglio Comunale ho fatto l'esempio. Questi 42 mila abitanti mangiano sempre la stessa quantitativa di prosciutto, di pere o di mele. Ecco, ma tutto si ridurrà allora a un supermercato che dovrebbe dare lavoro a 250 persone? E che supermercato è? Ma così ci hanno detto. E chiaramente è prenderci in giro, è fumo negli occhi. È brutto perché non prendono in giro solo noi, ma hanno preso in giro anche gli ex lavoratori dell'Agnesi, alcuni dei quali sono ancora in cerca di occupazione, e quindi è inutile fargli vedere che possono trovare spazio dietro un bancone di un supermercato o quali magazzinieri. Il commercio per grandi strutture di vendita o per medie strutture di vendita ritengo che Imperia non possa più dare alcunché. Bisogna cercare invece di favorire, di sviluppare tutti i tessuti commerciali storici, quindi penso al centro storico di Onelio e di Porto Maurizio, ma anche ai centri storici belli delle frazioni e delle altre borgate che devono provare a far nascere delle piccole attività, che devono provare a far nascere qualcosa. Quello che ho detto in campagna elettorale, che ha detto anche Scaiola in campagna elettorale, ma mi sembra che Scaiola stia facendo proprio l'opposto di quello che ha detto in campagna elettorale, non ha detto ai cittadini in campagna elettorale che avrebbe fatto un grande supermercato nell'unica zona libera e bella davanti al mare di Imperia. Ci sarà solo quello? Il progetto prevede qualcos'altro? Il progetto prevede 7.000 metri quadrati di commercio, parlano di due attività ristruttativa, riconducibili al sushi, qualcosa del genere, poi stick house, queste grandi marche, queste grandi catene, e poi tre medie strutture di vendita. Tre medie strutture di vendita sono tre supermercati, magari hanno pensato a un alimentare e a due non alimentari, però parliamo di strutture impegnative importanti come superficie, e poi hanno fatto la cosa più brutta, hanno messo un'attività importantissima, che noi abbiamo lodato fin dall'inizio, sponsorizzavano già in tempo nella campagna elettorale, il polo tecnologico proposto dall'Unione Industriale, che è una cosa veramente qualificante, l'hanno utilizzata per dividere i capannoni commerciali in due parti, in modo tale che non si costituisse un parco commerciale, ma potessero essere qualificate come medie strutture di vendita. Questo mi rendo conto che la gente da casa fa fatica a capirlo, perché è un aspetto molto tecnico, però sono stati anche maliziosi sotto l'aspetto tecnico procedurale per poter riuscire a portare in porto l'operazione. Noi ce ne siamo accorti, adesso abbiamo avviato il dibattito, io mi auguro, abbiamo rivolto un appello al Sindaco, che ci ripense, visto che comanda solo lui, gli altri non abbiamo potuto partecipare a un dibattito in Consiglio Comunale, perché i consiglieri di maggioranza si sono limitati a riportare quello che avevano preparato il giorno prima o i giorni prima, non interloquendo con noi, con quello che abbiamo detto, io e gli altri consiglieri di minoranza, ci auguriamo che lo facciano nei prossimi giorni, che si vadano bene a vedere le pratiche, che capiscono le pratiche e che si rendano conto del cattivo servizio che sarebbe stato fatto alla città se si portava in porto un progetto. Dico un'ultima cosa, non era un progetto di massima, era un progetto sul quale c'era già un assenso preventivo dell'amministrazione, perché la delibera di giunta che hanno fatto diceva di mandarlo celermente all'approvazione. Se io mando una cosa celermente all'approvazione vuol dire che sono convinto della bontà dell'operazione, diversamente la rivedo, non la porto all'attenzione degli organi che me la devono approvare. Quindi un invito all'amministrazione a rivedere il tutto e fare le cose ben fatte, non così.